Sono pronte a scendere in campo già per il quarto turno di campionato. Sono le 40 protagoniste della stagione numero 44 dello storico lavoratore WISP a 11 giocatori. 14 squadre in Serie A1 e 26 in Serie A2 che verranno ricordate per aver scritto una pagina importante di storia del calcio WISP. Sì, perché nel 2018 ricorre il settantesimo anniversario di fondazione dell'Unione Italiana Sport per Tutti e il Comitato di Genova ha intitolato i campionati di calcio proprio a questo traguardo. I campionati del settantesimo sono il regalo che l'ente di Piazza Campetto ha voluto fare a tutti gli sportivi genovesi nel segno della tradizione ma anche del rinnovamento. In via sperimentale il lavoratore ha adottato l'assegnazione dei tre punti in caso di vittoria mentre la novità più importante per i campionati amatori e per il campionato femminile riguarda i costi. Attraverso infatti la formula pacchetto-quote-gara viene garantita una sensibile riduzione dei costi che non potranno subire variazioni durante la stagione. Una stagione dove c'è ancora la possibilità di essere protagonisti con ultimissimi posti disponibili nei campionati infrasettimanali e di iscrizioni che proseguiranno fino a fine ottobre. È il caso per esempio dei gironi dell'amatori a sette giocatori che offre alle squadre la possibilità di scegliere campo e orario per le partite casalinghe. Aggiornamenti sono sempre disponibili sul portale di riferimento www.calciowispgenova e sulla pagina Facebook del comitato così come è possibile recarsi direttamente di persona presso la sede di Piazza Campetto 7 per ricevere ogni tipo di informazione e di approfondimento. Grazie a tutti.